Questa struttura è una struttura molto importante per Cavernago, credo sia l'opera più grande che sia stata realizzata negli ultimi 20 anni, stiamo parlando di un intervento di quasi 12 milioni, ovviamente che verrà realizzato nel corso di 5 anni. È importante perché il taglio che il Comune ha voluto dare è un taglio sostanzialmente sociale. Noi non volevamo un operatore privato che lucrasse su queste situazioni di disagio sociale, ma volevamo un operatore che non avesse scopo di lucro. Siamo riusciti a trovarlo, siamo contenti che è arrivato, in questo modo le prestazioni sanitarie che verranno erogate verranno erogate a canone sociale e quindi tutti potranno aderirvi. I cittadini di Cavernago inoltre avranno qualche privilegio in più perché è stata siglata un'apposita convenzione, quindi diciamo che Cavernago raggiunge una svolta importante anche perché era 15 anni che questa struttura era prevista. Anche dal punto di vista urbanistico faremo un balzo in avanti perché la zona oggi verrà finalmente collegata all'abitato di Cavernago proprio attraverso questa struttura.